Buongiorno a tutti, sono Manuela Locci, sono la responsabile progetti di ESS in Italia, Erasmus Student Network Italia e oggi sono qui a nome del direttivo nazionale. A Cagliari si svolgeranno i National Erasmus Games alla quarta edizione. Crediamo molto a questo progetto e a questo evento come direttivo nazionale in quanto lo sport è sinonimo di integrazione e lo sport è appunto uno dei pilastri del progetto Erasmus+. Quest'anno si festeggia il trentesimo anniversario del progetto Erasmus. A Cagliari arriveranno circa 370 atleti da 52 diverse sezioni di Erasmus Student Network Italia. Essen Italia infatti consta di 52 sezioni in circa 45 università differenti. I paesi che verranno rappresentati saranno abbastanza molteplici, circa 20 paesi differenti. Gli studenti che vinceranno i National Erasmus Games avranno l'opportunità a maggio di andare a Porto e sfidarsi in un ulteriore campionato internazionale decretando poi infine la squadra vinciclice a livello proprio internazionale. Il progetto Erasmus & Sport è un progetto che esiste dal 2014 ma quest'anno diciamo che diventerà un po' uno dei nostri progetti cardine in quanto comunque essendo il compleanno del progetto Erasmus ci teniamo che venga sponsorizzato in maniera adeguata. Cagliari è la città che quest'anno ospiterà il National Erasmus Games e sono molto orgogliosa perché al di là del fatto che faccio parte del direttivo internazionale la mia avventura è iniziata a Cagliari dopo il mio Erasmus e quindi supporto i ragazzi sin dalle fasi preliminari del progetto e continuerò a farlo fin quando domenica il tutto non avrà fine.